E carissimi amici, carissime amiche, bentrovati, benvenuti sul canale. Questo video ha un titolo certamente particolare e suggestivo. Si intitola Liliana frequentava un amico condannato per reati finanziari, truffa e bancarotta fraudolenta. Vedremo dopo di cosa si tratta. È un atto documentato. Però, prima di precisare cosa si intende con questa suggestione, voglio fare quattro chiacchiere con voi perché il senso del video è soltanto quello di cercare di dare una mano a percorrere strade che non si sono ancora viste bene, studiate bene. Poi, se alla fine un giudice dite da che il suicidio sia un fatto incontrovestibile, allora bene, andremo tutti al mare, come disse Salvatore Nassi. Quindi, chi ha voluto bene a Liliana non può che volere invece la giustizia e non può volere adesso, a priori, una schiviazione per suicidio che ha il sapore di stendere un velo pietoso. Ovviamente nessuno di noi ha la verità in tasca, ma ciò che emerge composto è che all'inizio, siamo parlando del dicembre 2021, anche gennaio 2022, emergeva, si parlava dei tanti soldi liquidi che giravano in casa. Poi, man mano che veniva fuori, diciamo, la storia di Serpin, ci si è innamorati, più o meno in buona fede, della storiella della Resinovic, innamorata dell'amico 83enne che non frequentava da una vita e operato, ricordo, per due volte di tumore alla prostata. Quindi un amore che sarebbe sbocciato per due stirate di camicia e qualche innaffiata di pianta. E in nome di questo amore inspiegabile, lei avrebbe dovuto lasciare il compagno di una vita, Sebastiano, che, se vuoi parlare anche male, ma era il compagno di una vita, quindi una persona con la quale stava bene, che gli garantiva tutte le libertà di donna, nonché una vita spensierata in giro per l'Italia e per l'Europa. Quindi questa favola dello Serpin ha il sapore di una cortina fumogena sull'inchiesta. E mi dispiace che più volte sia stata definita come soprammobile. Liliane non era, non era un soprammobile, come l'ha definito Serpin, ma anche Gabriella disse più volte dove la metti sta, ricordate, dove la metti sta. È un'immagine distorta, vedete, bisogna dare dignità a questa persona. E quindi non è vero, è un'immagine distorta che si vuole accreditare. Liliana ha lavorato e postato avanti la famiglia da quando aveva 15 anni. Ha sempre guadagnato. Da giovane ha girato anche il mondo con le amiche, conoscendo brave e cattive persone. Ha vissuto tante esperienze, anche negative, che l'hanno segnata sulla sua pelle, sul suo corpo. È stata coraggiosa al punto da praticare anche degli sporti estremi come il paracadutismo, il parapendio, oltre che alla corsa, al purismo. È un soprammobile, non fa il paracadutismo. Poi ha fatto concorsi nella pubblica amministrazione e li ha vinti questi concorsi. È stata funzionaria in regione e un soprammobile non vince i concorsi e non fa la funzionaria alla regione. Qualcuno ha confuso il suo carattere schivo e poco appariscente con una mancanza di personalità. Invece ne aveva, ne aveva nei momenti giusti. D'altronde è stata una vita con Sebastiano che non ha un carattere facile. È un godiziano testardo, Vicentino. Ma lei gli teneva testa al momento giusto. Ne ha sempre fatto quello che ha voluto, in realtà, anche nelle scelte di vita. E la sua scelta di vita era quella di vivere in libertà con Sebastiano. Con Sebastiano. E con una disponibilità economica tale che le permettesse tutto ciò che le piaceva e nel contempo le permettesse di aiutare in tutto e per tutto la sua famiglia. in particolare il fratello Sergio a cui ha dato tanto, ma con amore, quasi un dovere per lei. La bella vita piaceva. Piaceva la bella vita nel senso di non farsi mancare niente. E anche Sebastiano condivideva ciò. E hanno vissuto bene. È inutile che è testimoniata dalle migliaia di foto e dei video. E aiutava altresì Liliana il gruppo di amici fidati nelle loro esigenze. Anche se ovviamente non possiamo sapere in quali termini e a quali livelli. Ovviamente questo non ci ha dato a conoscere. Ma questo, questo è il contesto di Liliana Resinovic che amava quel tipo di vita da sempre. per cui mai, mai si sarebbe, cioè, mai si potrebbe credere ad una sua infatuazione per andare a vivere da un personaggio che era l'antitesi della libertà. Niente gite, niente viaggi e la donna delegata ai lavori casalinghi, eccetera. Ma siamo seri almeno su questo. Come abbiamo potuto credere? Quali sono i danni di una informazione a senso unico? Allora, bisogna chiedersi perché è successo tutto questo? e perché è stato sollevato questo polverone che ha portato l'inchiesta in un vicolo cieco. Il motivo è che l'indagine si stava avviando verso il momento economico, come detto prima, tra dicembre gennaio quando esompe esompe sulla scena lo Serpin che spiega di avere un rapporto con la Resinovic che doveva andare da lui, poi doveva andare il weekend, il trasferimento e bla 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 ok? Per cui quella mattina del 14 di dicembre lui va nel panico dopo pochissimo tempo perché si deve creare l'alibi poi va lì sotto la casa di Liliana va a Plavia chiama a salvo lo convoco il mattino dopo così in questura perché tutto ciò? Perché altrimenti sarebbero venuti a prenderlo come ci ha detto stesso lui ma perché questa preoccupazione? Perché sarebbero emersi quei 1100 contatti telefonici negli ultimi tre mesi a fronte di qualche saluto occasionale negli anni precedenti come li avrebbe giustificati se non con la favola dell'amore come li avrebbe mai potuti giustificare? e allora visto che qualcosa aveva nella sua mente sicuramente nella sua mente di vedovo aveva quell'idea magari ecco anche di poter avere con lui Liliana nella sua mente c'era pure io non lo voglio negare questo ma poteva esserci questa amicizia diciamo poteva essere basata anche su altro come dice l'avvocato Bibiliana con l'avvocato di Sebastiano bisognerebbe accertare quale tipo di rapporto ci fosse veramente ecco allora che si dice ma quale tipo di rapporto poteva esserci quale cosa che potesse riconduto ad un'ipotesi economica a un'ipotesi di soldi a qualche altra ipotesi quale questo non si sa ovviamente non si sa perché non lo hanno scoperto gli inquirenti quindi non si sa ovviamente però andando a vedere bene sempre collegandoci a quel circuito di liquidità eccessiva che girava c'è una suggestione e un dubbio si può trovare come suggestione ovviamente voglio premettere che qui non si accusa nessuno si dicono i fatti fatti si riferiscono fatti documentati che magari non c'entrano niente magari non c'entrano niente non siamo noi deputati a vedere se c'entrano magari non c'entrano niente però sono fatti riportati dalla stampa è un fatto ad esempio che guardando le tante foto tantissime foto postate nel tempo da Sebastiano con il solito gruppo di amici che con i quali si vedevano spesso nel corso degli ultimi anni in cui si riunivano per essere tre varnette o da altre parti per pranzi e per cene ebbene in questo gruppo vi è almeno negli ultimi anni la costante presenza di un loro amico tal Arturo Risuleo Arturo Risuleo con un passato di condanna per reati finanziari truffa e bancarotta fraudolenta fonte messaggero veneto piccolo di 3s quindi le fonti sono documentate ora è il passato è questo e poi adesso si è una persona specchiata tutto a posto quindi diversi amici però del gruppo diversi amici del gruppo sono amici anche di questo Arturo Risuleo anche su facebook sono amici che ed è un profilo è una cosa un po' un po' strana è un profilo distretto con solo 144 amici che oggi per chi frequenta i social sono una rarità veramente una rarità perché noi siamo invasi tutti quanti da migliaia di richieste di amicizie quindi quei 144 è proprio un'amicizia ristretta evidentemente quindi è una sorta di cernita degli amici più prossimi ciò presuppone una frequentazione che andasse al di là dell'amicizia su facebook o dei pranzi e delle cene in cui ci sono le foto ovviamente si può presupporre un'amicizia ulteriore ma la riflessione la suggestione qual è che ci sono due aspetti particolari che tra questi amici c'è anche Claudio Serpin che è un'amicizia anomala rispetto agli altri in questo contesto perché perché l'Osterpin mai ha fatto parte del gruppo delle cene e dei pranzi ovviamente è facile dirlo adesso perché non potrebbe essere adesso in base a tutto quello che è successo ma io dico mai ne ha fatto parte anche negli anni precedenti quindi abbiamo un'Osterpin che ha l'amicizia con Asturo Risulio ma non è amico degli altri amico con Risulio non amico con gli altri quantomeno non frequenta nessuno degli altri non li frequenta non li conosce nemmeno forse sarà semplicemente per il suo carattere solitario perché è un'intraverso è una persona difficile certo è ben strano che in epoca non sospetta quindi parliamo di anni prima l'Osterpin non facesse parte di questa commetiva mentre invece poi Sebastiano Vicentin era insieme agli altri amici amico su Facebook di questo Arturo Risulio che poi recentemente invece lui ha cancellato l'amicizia con Arturo forse perché per motivi personali avrà avuto malumori con lui e si è cancellato va bene però diciamo anche lui come Liliana come vicini di casa insomma erano amici adesso non lo è più fra questi amici di cui si parla i soliti noti l'unico che non compare proprio è il Covalero Fulvio Covalero che non ha mai fatto parte di questo gruppo di queste cene di questi pranzi e non ha mai avuto nemmeno l'amicizia con Arturo di Suleo forse ne dobbiamo deduzere che ahimè davvero sarà l'unico amico normale che ha avuto Liliana lui si vedeva una tantum ma oggi la normalità appare veramente strana essere normali è strano quindi sei strano caro Fulvio l'unico amico normale ora questi sono i fatti documentati quindi nessun volo pintarico sono i fatti documentati ora ci si chiede cosa significa tutto ciò cosa significa probabilmente non significa niente perché se un amico che frequentiamo non frequentiamo passa dei guai finanziari con la giustizia più volte non è detto che ci sia né un'implicazione da parte nostra né una conoscenza da parte nostra o con qualcuno di essi non è detto questo per carità perché è solo la magistratura deputata eventualmente a fare questi controlli quindi non c'è ufficialmente nessun tipo di correlazione provata fra le attività i guai processuali passati di Arturo di Sulio con i suoi amici e né quindi ovviamente con la Liliana Resinovic anche se noi nelle foto c'è la suggestione che la vediamo spesso seduto vicino a lui di fronte a lui ma sono suggestioni che non possono trovare niente quindi però rimane la suggestione qual è che non si può escludere in linea ipotetica che la Resinovic in perfetta buona fede abbia avuto contatti o coinvolgimenti in attività o investimenti che magari le sembravano leciti le sembravano normali e poi si sono rivelati di tutt'altro genere a volte una persona si può trovare nei guai anche avendo approcciato in buona fede ovviamente ripeto è solo una suggestione però si ha l'impressione personale che considerate l'assenza di movimenti bancari perché stato visto i movimenti bancari erano minimi quindi soldi niente assenza di prestiti fatti con finanziarie canali ufficiali il TFR intatto lì non toccato quindi movimenti bancari praticamente zero tutta questa liquidità è considerata tutte quelle sue attività di dare soldi e di aiutare fratello famiglia e tutto il resto poi magari gli amici dicono tienimi 20.000 euro 15.000 euro qua 20.000 euro là e poi ricordiamo il fratello che disse una volta Liliana è venuto mi ha dato non so quanto non ricordo se era 1600 e diceva va bene tienimi tu questi soldi tanto noi ne abbiamo e i codici dietro al quadro che il fratello dice mi fece vedere dei codici che lui non capì esattamente cosa significassero se nel caso mi succedesse qualcosa sono tutte suggestioni amici sono suggestioni ma sono fatti che sono stati detti sono fatti documentati documentati e quindi e quindi poi quando tutto intorno si dice io non so io non metto le mani io non so niente gli amici brave persone io sono l'amico non so nessuno sa niente allora perché io mi chiedo semplicemente non è stato approfondito questo aspetto che quantomeno andava approfondito alla pari e forse più di quell'aspetto ridicolo che lei voleva cambiare vita la vigilia di andare dallo sarpino chissà se il dubbio è che altri sapessero e non hanno parlato che abbiano pensato che era strano che questa loro amica avesse queste grandi disponibilità essendo una pensionata e di fatto il marito arrangiava a fare lavoretti ma ma alla fine l'archiviazione per suicidio conviene conviene quasi a tutti per stemperare le polemiche perché senza altro vabbè conviene al 100% a Sebastiano perché ovviamente dopo aver subito ingiustamente dico io tante tante critiche la vita era sua la vita era sua e di Liliana vivevano in quel modo non dovevano dar conto a nessuno quindi io credo che che lui non abbia nessuna responsabilità su questo e gli conviene che venga che venga schiviato tutto perché alla fin fine nessuno ridarà a lui la vita alla sua compagna conviene in parte anche alla famiglia per quel poco utile che ne potrebbero avere ma ormai è inutile insistere non c'è più Liliana non c'è più ma chi esce con le ossa rotte ahimè è lui da questa situazione le ossa rotte c'è l'aster pin che ultimamente vedete è anche più dimesso ma nervoso è impazzito quasi nelle sue reazioni sempre più torbide perché l'archiviazione così non gli darebbe alcun vantaggio sicuramente sarebbe innanzitutto la prova provata che la storia d'amore non esiste che lui l'ha messa soltanto come cortina fumogena e lui non vuole quindi non vuole questa e non può più far credere visto il silenzio telefonico di dieci giorni che lei stesse per andare da lui e quindi ormai la maschera è caduta ma ma intanto qual è il problema è che se vi fossero in ipotesi altri contenuti al di là dell'amicizia è lui lo Serpini che ha dovuto difendersi per un anno e mezzo senza senza ricevere alcuna utilità è lui che stava esposto in prima linea più di tutti quindi quando gli chiedono faccia l'ipotesi di quello che può essere successo lui risponde dovrei accusare qualcuno lui dice no perché io dovrei accusare qualcuno e finirebbe male e non lo farò questo è questa è la mia suggestione di oggi l'ultima annotazione che mi sento di fare che dispiace pure che quella traccia di DNA trovata non sia stata comparata con più persone al di là dei tre noti e come pure per quanto riguarda questi avvistamenti più interessanti del 4 gennaio con l'uomo che ha posto quel grande sacco in spalla e del 5 gennaio con quell'uomo che esce dal boschetto con la torcia accesa si si tende sempre a vedere a ricondurre ai soliti noti per dire a chi assomiglia assomiglia a Serpin assomiglia a Sebastiano oppure poteva essere Covalero mentre invece se fossero anche attendibili questi avvistamenti ma è ovvio che è molto più probabile che siano ricondotte a persone sconosciute perché dobbiamo presupposte altri scenari che conducono alla parte economica torbida della vicenda e quindi certamente non a quei 2 3 4 personaggi solo un GIP un GIP potrebbe non aschiviare e quindi fare indagine ulteriore cercare di approfondire ora oggi vi ho raccontato questa suggestione basata sui dati di fatto documentati affinché possiate capire che non tutto è come sembra o come ci hanno voluto fare credere che potrebbe esserci altro da approfondire se poi alla fine il GIP conferma l'archiviazione per suicidi allora dato che ci stiamo approssimando ormai alla bella stagione si avvicina potremmo dire unitamente a Salvatore Nasti andiamo tutti al mare andiamo tutti al mare il caso è chiuso ciao amici miei vi voglio bene un abbraccio a tutti quanti voi un abbraccio non non un abbraccio